Filippo Busina, ci sono delle buone notizie per le piccole partite IVA? Noi abbiamo ripresentato l'interrogazione in sesta commissione sui regime dei minimi, perché ci sembra che sia ormai matura per prendere una decisione in tal senso. Il governo ha fatto un primo passo perché ha fatto un'interrogazione al Dipartimento Finanze e alla Commissione Europea chiedendo la proroga del regime dei minimi, contestualmente l'innalzamento a 65 mila euro del tetto massimo come da noi auspicato, come da noi richiesto. Speriamo che questo sia il segno di una volontà precisa di agire in questo senso e non un escambottage per guadagnare tempo e per posticipare le decisioni. Oltretutto abbiamo fatto notare che la spesa per il governo, per il mancato indroito, sarebbe veramente bassa perché parliamo di 29 milioni ulteriormente riducibili per effetto virtuoso della nascita di nuove imprese. Oltretutto la somma messa in campo per questo provvedimento è relativamente bassa, sono 29 milioni e interessa una platea molto vasta invece di contribuenti, si parla di oltre un milione di contribuenti che messa a fianco degli oltre 10 miliardi che servono per un provvedimento analogo rivolto invece questo ai dipendenti, capiamo che le cifre in campo sono assolutamente irrisorie e affrontabili.